benvenuti in questo nuovissimo video vi indovinate un po di minecraft bellissimo video di minecraft perché non ho fatto l'intro in f5 non lo so e si so come vedete qua qua ho la scritta il nabbo non vi chiedete il perché perché sono un idiota andremo a fare andremo a fare in questo video non so cosa non so che fare in questo video ma io direi di fare una classica backwards però 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 come al solito però direi di farla 4 v4 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 perché ragazzi io sono una persona originale faccio sempre video nelle cose 1 v1 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 però a me piace anche la modalità questa qua 4 v4 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 e io che livello sono 23 in colpo vedete si gioca abbastanza dei pixel non in un perdere il letto subito mio amico è perdato più o meno esistereo c'è quanti no si mi stanno guardando male f5 maia del mondo il mio amico l'ha ucciso almeno oppure è scappato come un scemo è scappato come un scemo ah no l'ha ucciso ha fatto la scappa bravo ma lui è un bomber ma lui era un bomber ragazzi voi non capite quanto sono felice quando tipo i miei compagni di team sono intelligenti e non come quei stupiti persone dio ce n'hai qualcosa per distruggere quella cosa oh my god oh my aia maiala amico c'è un problema c'è un problema io non ho niente per distruggere la e poi abbiamo una bardatura che pari a un cavallo morto mi tocca a mettere almeno un po di endstone non mi chiedo tanto ma quanto siete forti io non ho fatto niente questa partita c'è raga io ho fatto il mio partito la prima volta che bardo mia mia vita io mi abbia un buon essere emozionato poi raga io mi con... mi conoscendo cosa farò no di bardare sono i punti dove il letto è più raggiungibile però secondo me gli altri punti non sono molto importanti tipo questo pezzo no ma si devi scavare tre blocchi eh per... per... svegliamosi ah ma i telli... forse sta partita lo vinciamo c'è l'ho detto veramente io non ho fatto niente ho fatto zero kill zero letti distrutti zero final kill zero niente zero totale ha gheppolato ha gheppolato ha gheppolato ha gheppolato no raga non ho bisogno di gheppol per ucciderlo questo se no non ci riesco no raga amici la ganga vabbè io lo lascio in pace quello ho capito aia ah o o ho fatto una gheppol immediatamente anche abbastanza tanto la letta di funga un numero abbastanza un numero abbastanza ho detto che hai fai quattro tacche e tre tacche io dovrei cambiare tab perché ogni giorno mi viene proprio da fare così per controllare ok io ho quattro smeraldi io... stavo per averne due ok altri due smeraldi e mi posso fare l'or alex no 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 siiiii stupido C'è avuto l'ansia Non volevo Stupido idiota Stupido idiota Stupido idiota Perché sono un scemo Quando ho gli smeraldi Dai raga No mi ha visto Tu mamma Tu mamma Tu mamma Tu mamma Tu madre Utt madre Utt 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 Madre Utt 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 Uff No Ma No Fa ragazzi devo dire che questa partita è noiosa, è proprio tanto noiosa non c'è divertimento a fare le partite mamma mia, 8 diamanti 8 diamanti sono veramente euforici ragazzi, questa sera fatta la cusurama con la bella ho messo la trappa qui, quindi io prenderei il pulla no ragazzi, sono rimasto in due minuti madre, tu madres, tu madres, tu madres, tus, madres non si, ora parlo pure spagnoles no io devo assolutamente andare dall'isoletta qua di zalli non si, non si, non si, ma 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 non Tu smadres, io faccio un ponte altissimus da qua No, 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 no Ragà, ragà, l'avete visto? Ragà, l'avete visto? Ragà, avete visto tutto quello che è appena successo? Ragà, l'avete visto? No, non fate tale per un motivo Ora non faccio sempre un motivo, perché secondo me non vi avrei tanto scoperto, non ci sono tanti di noi No, ragà No, tu m'adressa Amico Amico No Amico stupido Stupido Amico 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 Il governo Amico Amico e vabbè tanto è quitto perchè tanto è impossibile vincere questa cosa ma divertiti metto una cosa in testa e adesso è bene lo devo fare perchè sono milanese NON 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 TANI STUPIDI NON 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 Grazie